Prepariamo una cena che piaccia a tutta la famiglia in 15 minuti. Vuoi questo o questo? Pagli! Promossa? Ingredienti semplici, carote e fagioli. Tritiamo carote e cipolla e le saltiamo in padella. Poi viene il mixer, insieme ai fagioli, il sale, l'olio e se volete un po' di taina. Intanto loro due. Cos'è in testa, Tommaso? Era stato la tv. Uniamo il pangrattato e mescoliamo. Diamo forma ai burger e li cuociamo in padella per 5 minuti, girandoli a metà tempo. Ora due idee per accompagnarli. La prima, il panino. La seconda, con verdure e il cereale che preferiamo di più. Oh, io panino. Buono. Com'è, Tommaso? Buono. Non si lamenta mai. Buon. Dai che adesso andiamo a mangiare, dai.